Adesso muovo la mano. Io ho capito moltissimo le mani perché sono la parte più importante del corpo, la più espressiva. Le mani sono quelle che fanno tutto. È meglio essere certi che senza mani. Perché con le mani, la mano è una serva nostra, la mano lavora, però la mano esprime. La mano, sto fermo così, ma secondo di come la metto, cambia l'espressione al mondo. Noi pensiamo che il volto, come è espressivo, muove sta pancia, è l'assieme delle cose, è anche la situazione. E allora ci sono i diti che si muovono. I diti, muovo i diti. I diti li posso muovere in tremila maniera, guardate, ogni volta capito. No, non ci sono 70 anni qui da guardare lo spettacolo, no? Allora dico, vabbè, 70 anni, ma è importante quello che faceva la notte Cristoforo Colombo. No, era bambino dormiva. Quando c'aveva la moglie, ma non è, faceva quello che facevano tutti. Allora, tagliamo tutte le notti e anche bene il lavoro, ti ho parlato di 35 anni. Già, è qualcosa. Però il problema c'è, allora incomincio, ecco, taglio quello che non serve, quello che non serve e faccio la storia di Cristoforo Colombo in due ore. Grazie. 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 Grazie.